Uno dei metodi più antichi per controllare le persone è il buon vecchio senso di colpa. Si parte dalla famiglia, se vuoi bene alla mamma devi fare questo, si va avanti con la religione, se fai così Gesù piange e poi si arriva ai rapporti di coppia. Se mi ami devi fare questo, se fai questo vuol dire che non mi ami abbastanza o non mi ami nel modo giusto. Questo è un modo molto pericoloso di controllare le persone che può creare dei danni giganteschi. E' chiaro che la maggior parte della gente replica un comportamento che ha imparato quando era piccola. Noi replichiamo con gli altri i modi che abbiamo imparato in famiglia, principalmente di essere trattati. Ma questo non esime né noi né gli altri da delle responsabilità. Quindi se vi rendete conto all'interno di un rapporto di sentirvi all'improvviso, pervasi dal senso di colpa, beh, probabilmente qualcuno lo sta utilizzando più o meno volontariamente per controllarvi. Allora la strategia deve essere molto chiara. Patti chiari, amicizia lunga. Con me questa cosa non funziona. Non mi piace e non mi piacciono i giochi psicologici. E se la strategia continua, molto spesso l'unica cosa da fare è darsi a gambe levate. Grazie. 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 Grazie.